vuoi assaggiare comincia sempre sciogliendo il lievito oh ma avete visto che facciamo oggi guardate che finata pagnotta super rustica scegliamo un mix di mix quindi un mix bianco per pane e ci aggiungiamo il mio amato mix rustico aggiungi l'olio il sale mischi un po' io a questo punto mi trovo bene a rovesciare tutto lavora con i palmi delle mani mettiamo una bella dose di farina di riso andiamo ad appiattire il panetto io rovescio da un lato e dall'altro in tre e poi semplicemente arrotolo ripongo ti faccio una croce come facevano le nonne e vedrai che questa poi si allargerà riponiamo con pellicola e strofinaccio oppure sacchetto grande per congelare infilo una mano sotto e vado a posizionare se vuoi puoi mettere sopra della farina di riso o farina di riso e mais insieme o farina di mais per dare proprio l'effetto forno ah tutto sopra di riso non è vero non è vero adesso c'è un po' non è vero io ho provato io ho provato